... Suscitava curiosità la convocazione del Consiglio Comunale della città di Pagani fissato per questa mattina, vista che domenica scorsa i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo parlamentino. Il presidente dell'assise precedente, Antonio Donato, aveva convocato per oggi i consiglieri ormai uscenti per approvare il bilancio di previsione, visto che fino ad ora l'argomento non era stato portato in aula nei termini previsti per legge, previo commissariamento. Quindi il Consiglio Comunale uscente stamane avrebbe dovuto riunirsi per discutere ed approvare lo strumento finanziario di previsione per evitare il commissario ad acta. Ma l'assise è andata deserto, o meglio, non è stato raggiunto il numero legale, infatti presenti in aula solo sette consiglieri, di cui sette di opposizione e uno di maggioranza. Gli assenti 17 ci si riprova domani in seconda convocazione. All'ordine del giorno, oltre al bilancio di previsione, figura anche l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la ratifica di una variazione al bilancio di previsione. Indubbiamente sembra insolito un Consiglio Comunale e l'approvazione del bilancio da parte di consiglieri comunali in scadenza di mandato, ma diciamo che rientra nella regola amministrativa ed è un atto che deve essere effettuato. Per cui la seduta si terrà domani in mattinata alle ore 10, come abbiamo detto, in seconda convocazione e basterà solo un terzo dei consiglieri comunali per effettuare la seduta. Nel mentre stamattina l'ufficio elettorale centrale ha proclamato ufficialmente il ballottaggio fra i due candidati sindaco Bottone e Gambino che si svolgerà nella giornata di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e gli elettori dovranno recarsi sempre al medesimo seggio elettorale dove hanno votato la prima volta.